Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming, in questo video voglio parlarvi dell'Epic Games, una piattaforma che sicuramente conoscete perché è nata lo scorso anno e ogni settimana regala nuovi giochi. Questo mese sta regalando GTA V, completamente gratis. Non viene richiesto alcun pagamento né per creare l'account, né abbonamento di alcun tipo, nemmeno per l'online, insomma è completamente gratis. Non c'è trucco, non c'è inganno, non c'è fregatura. Se Twitch Prime non vi basta, allora subentra Epic Games, azienda che conosciamo tutti per Fortnite e per i grandi guadagni che fa, e che mette a disposizione ogni settimana giochi, a volte giochetti, a volte giochi veramente importanti come i Batman, come GTA V questo mese e tanti altri. Come funziona? Allora, la prima cosa da fare è quella di andare su epicgames.com, cliccare qui e scaricare e installare il client sul PC, che è questo qua. A questo punto fare l'account, quindi andare su epicgames.com, cliccare su accedi, qui adesso non c'è perché io sono già loggato, e creare l'account, che ripeto, è gratis. Non vi viene richiesto niente. Una volta che avete creato e confermato l'account, potete fare l'accesso nel client. Ora, fino a poco tempo fa, era possibile scaricare i giochi direttamente, fin da subito, andando sul negozio ogni settimana, scendendo in basso e cliccando sui giochi gratis. Una volta aggiunti, questi restano nella vostra libreria, e quindi non andranno più via. Invece, di recente, ha Epic Games introdotto una piccola clausola, a mio avviso molto molto importante, e consigliata, in questo caso forzata, ossia l'autenticazione a due fattori. In altre parole, dovete attivare l'autenticazione a due fattori per poter avere i giochi gratis. Ma che cos'è questa autenticazione a due fattori? È un sistema di sicurezza che permette di loggarsi nel proprio account, non solo dopo aver messo user e password, ma un codice che viene inviato via sms, email o app google. Quindi, se non avete attivato questa autenticazione a due fattori, non potete avere i giochi gratis. L'attivazione è molto semplice, naturalmente gratuita. Come funziona? Andate su epicgames.com slash account slash password, e andate su password e sicurezza, se non visualizzate questa schermata. Da qui, se scendete in basso, potete attivare l'autenticazione a due fattori, ovviamente dopo che avete effettuato l'accesso con il vostro account. Potete decidere di attivarla via sms, email o app. Io personalmente preferisco l'app. In altre parole, sul playstore c'è l'app di google, che si chiama google authenticator, che vi permette, non solo sull'epic games, ma anche su tutti gli altri servizi e piattaforme online, di generare un codice ogni tot di tempo, che viene, diciamo, richiesto per fare un accesso sicuro. Quindi, una volta che avete attivato questa opzione, avete confermato il tutto, potete scaricare i giochi gratis. Quindi, ricapitolando, iscrivetevi su epicgames, scaricate il client, effettuate l'accesso, abilitate l'autenticazione a due fattori, come vi ho detto, dopo di che, ogni settimana, andate sul negozio, scendete in basso e controllate se ci sono giochi gratis. Vi verrà richiesto un checkout, come se state acquistando il gioco, ma il prezzo, ovviamente, sarà di 0 euro. E il gioco, una volta riscattato, resterà vostro per sempre. Se questo video vi è servito, cliccate sul pollice in alto, iscrivetevi al canale e per qualsiasi domanda, non esitate a lasciare un commento.